No, dopo la partita di domenica eravamo un po' incazzato perché era un derby e abbiamo messo la voglia per vincerlo. Alla fine non dobbiamo fermarsi su questa partita, dobbiamo subito pensare a sabato perché abbiamo una partita importante e facciamo bene questa settimana per essere pronto per sabato. È vero che adesso non sono ancora al 100% perché io sto tornando di un infortunio importante. Però è vero che giocare ogni domenica a 90 minuti ti fa crescere a livello di fiducia e mentalmente pure. Spero tra poco arrivare al mio livello massimo. Hai avuto anche qualche critica veramente immeritata e fuori luogo. Tu le hai avvertite queste critiche e come le hai gestite? Sul serio, ho sentito quando sono venuto in allenamento che le mie compagnie me le hanno detto. Io non è che faccio troppo caso alle cose che si dicono fuori il campo. Io come sempre vengo in allenamento dal massimo, pure fuori il campo dal massimo e alla fine il lavoro si paga. Io non sento troppo le cose che si dicono fuori il campo. Io non penso, noi andiamo lì per andare a vincere. Non è che andiamo per fare un pareggio. Come dico ancora, dobbiamo dare il massimo e dopo il risultato vediamo dopo le 90 minuti. No, dentro tutte le squadre gli attaccanti sono bravi. Ogni domenica quando giochiamo sempre il mister quando prepara la partita dice che davanti sono bravi. È vero che sono bravi. Comunque noi abbiamo fatto sempre bene quando siamo concentrati a fare le cose in campo e pure se gli attaccanti sono bravi noi vinciamo le partite.